Invertire la rotta e scacciare i fantasmi di un esonero. Gaetano Oteri si gioca il Pescara e allo Zecchini di Grossetto cerca quella vittoria che ai Biancazzurri manca da oltre un mese. 1-0 all'Olbia. Un risultato che probabilmente passerà anche da un cambio di atteggiamento. Il ritorno al 3-4-3 non è servito, magari i calciatori hanno ritrovato automatismi già noti e sui quali hanno lavorato nei primi mesi. Il problema però è che il Pescara è diventato una squadra senza anima, vuota. Non è dato sapere se questo essere piatti dipenda da una mancata sintonia di buona parte del gruppo con l'allenatore, se dai continui cambiamenti, se dal clima di negatività che avvolge la squadra, cosa questa sottolineata da alcuni calciatori dopo il match con la Lucchese. Fatto sta che per fare risultato anche sul campo della penultima in classifica servirà un Pescara vivo e convinto. Difficile pensare che una sola settimana di lavoro possa rigenerare il gruppo, ma Oteri ci spera. Il tecnico siciliano dovrà fare a meno di Drudi e Rizzo squalificati. Oltre Di Gennaro vanno verso il forfè Rauti e Marilungo, recuperato Bocic mentre Galano continua a lavorare a parte e se dovesse recuperare sarà solo per la panchina. Nel trio di difesa Ingrosso tornerà al centro, probabile il rilancio di Iglianes come braccetto destro, ballottaggio Veroli frascatore sul lato mancino, ma il primo ha ben figurato con la Lucchese e potrebbe essere confermato. Sulla corsia di sinistra in deciso rialzo le quotazioni di Rasi, che sembrava sul punto di giocare già domenica scorsa, poi però Auteri aveva riconfermato Nzita. Centrocampo completato da Memuschai, Pompetti e Zappella. Davanti tornerà Ferrari con Dursi a sinistra, a destra Clemenza proverà a strappare la maglia a Chiarella, che comunque è davanti. Il Grosseto finora non ha mai vinto in casa in campionato, ma l'ultima mezz'ora di Siena, con la squadra capace di ribaltare risultato e pronostico, hanno dato grande entusiasmo alla squadra di Lamberto Magrini, che potrebbe ripartire dall'assetto provato per la prima volta al Franchi, con la difesa 3 composta da Ciolli, Salvi e Siniega. In avanti Moscati si è sbloccato ed è la certezza, De Silvestro e Arras si contendono l'altra maglia. Le due squadre si sono già trovate di fronte a Pescara in Coppa Italia lo scorso 15 settembre. Vittoria bianca-azzurra 2-0 con Reti di Zappella e Dursi sarà il primo confronto nel campionato di Serie C. In B4 precedenti con due vittorie a testa, in particolare a Grosseto, vittoria unionista 3-2 nel marzo 2011 con Reti di Alfageme, Turati e Sforzini, Stoian e Sansovini per il Delfino. Riscatto bianca-azzurro l'anno dopo nel maggio 2012, quando il Pescara di Zeman volava verso la Serie A, 2-4 con Reti di Insigne, Nielsen, Sansovini e Autogol di Alfageme, inutile la doppietta di Sforzini. Dirige il primo anno in Caneci, Kevin Bonacina di Bergamo, alla prima direzione con entrambi i club.